bella a tutti ragazzi eccoci per un nuovo video ci siamo lasciati nell'ultimo episodio e dobbiamo parlare con Ray Ciccio mom va bevi la birra già ha chiedato la dorsale satellitare non i satelliti i cavi sottomarini che collegano Cina e Stati Uniti ma non è questa la cosa che ci interessa la Bloom monitora l'hack Josh dice che gli hacker stanno rubando i dati per fare soldi con la borsa di New York hacker che si danno all'insider trading non sarebbe la prima volta no ma senti questa il programma che stanno usando Josh rullo di tamburi è un rilevatore di strutture mi ci gioco le palle che è il bellwether e la Bloom lo sa e come mai non fa niente? ecco perché ne parliamo non sappiamo niente di sicuro tranne che gli hacker cinesi hanno usato il loro accesso per far sbarcare un carico a San Francisco i container sono appena arrivati al porto do un'occhiata andiamo a dare un'occhiata abbiamo tre missioni intanto con la missione con la missione del porto più questa missione che ci ha dato Sitara più questa missione quindi abbiamo un bel po' da fare intanto li ho tracciati no devo tracciarlo comunque bello il fucile fucile a cecchino bello tuk 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 a parte che sarebbe bello col silenziatore col silenziatore sarebbe perfetto purtroppo però non ci sa come si scuolpate mi scuolpate la macchina di mia zia ora guidiamo guideremo molto male cazzo questa auto fatta per guidare si fa si pensano veramente non sono sicuro che mi daranno la patente ho fatto la scuola scopata l'avevo detto che la trattavo male la cosa bella è che la polizia non mi sa venendo a cercare ci sarà qual è il numero dei container che sto cercando lv 426 davvero un numero così corto quasi sì prima c'è si bu 707 ok capisco ok capisco ma ci sono altri container in mezzo devo trovare il modo di sbloccarlo vado a pensare se mi baggavoli ma se i soldi alzano meno male che sa qui non era la rietata quindi cosa andare cazzo trochi volare nelle vicinanze zio soccato sotto 9 1 1 dichiari la natura dell'emergenza prego la natura dai si è bagato si è bagato ah no è perchè è nero se lo vedete sparate a vista ok che cazzo a ora ho capito che idiota madonna trovatelo non mi troverete mai vecchi non mi troverete mai vecchi fermi aspetta no niente ahah non ti niente sfigato qui sei tu quella che non conta niente non ce l'abbiamo non mi trovi aspetta non mi trovi non mi trovi anche se mi sa non mi trovi serbani non mi trovi più come si fa? ecco R1 so i apri a togliere questo corso per l'antipo cacchio però no dai raga lascialo stabilire ristabilisci tranquillo non c'è fretta ristabilisci no dai come si fa però ma come si fa a ristabilirlo raga dai non è possibile oh cavolo no sono stupido devo scendere prima poi perché non si si ristabilisce no dai come si fa eh dai ristabilisciti che cavolo non si ristabilerà mai avevo detto che questo livello non dovevo farlo per primo dai però no cazzo impossibile impossibile allora finalizzata di tutto gli minuschi qui che mi sono antipatici muori muori mi sono antipatici mi sono antipatici big money e perché è impossibile carica 2 è impossibile caricare che cacchio vabbè come faccio però non posso farlo impossibile e e e e e e e e e No, ma come si fa? Madonna! Oh no! No, la madonna, però... Eh, vabbè, continuerò nel prossimo episodio. Ciao, ciao.